La linea della Lega B è comune e anche la Salernitana attraverso il copatron Marco Mezzaroma l'ha sposata in pieno. L'imprenditore romano, che è anche vicepresidente della Lega B, ha spiegato ai microfoni di 8 Channel 696 quanto discusso quest'oggi dall'Assemblea dei Club Cadetti, riunitasi in videoconferenza per discutere, tra l'altro, del taglio degli stipendi. L'orientamento della Salernitana è assolutamente in linea con l'orientamento delle altre società. La B è presa in esame la situazione e le società inizieranno una sorta di trattativa con i propri tesserati perché l'attuale livello dei costi a queste condizioni non è sostenibile. Le trattative poi vengono necessariamente fatte a livello singola società con i propri tesserati. Però c'è compattezza da parte della Lega di portare avanti questo tipo di strada, questo tipo di iniziativa. quando le autorità competenti stabiliranno che è possibile riprendere l'attività collettiva, in primis quella degli allenamenti e poi anche la disputa delle gare ufficiali, in base a cui noi ne prenderemo atto e naturalmente agiremo di conseguenza. fare in questo momento, dare delle date mi sembra ancora abbastanza prematuro, fermo restando che anche oggi tutti quanti hanno spiegato che questo avvenga il prima possibile, naturalmente compatibilmente con la sicurezza.